e ciao a tutti amici oggi andremo a parlare di color un amico mi ha chiesto qual è la differenza tra lift gain e in confronto a gamma e mid detail adesso andiamo a vedere un po un discorso in generale per capire quali sono bene i controlli quindi siamo sulla pagina color io ho realizzato in timeline come vedete ho inserito alcune clip perché perché le teremo di riferimento per andare a vedere a livello di strumentazione quando facciamo la color cerchiamo anche di utilizzare soprattutto gli strumenti perché sono indispensabili non pensiamo pensare di fare a occhio e questo ci aiuterà a capire meglio cosa sono questi comandi della color allora come vedete in timeline ho inserito delle barre in bianco e nero una sfumatura in bianco e nero delle barre a colori poi un'immagine che ho fatto in fusion che adesso andiamo a cambiare di volta in volta per andare a capire bene gli strumenti e poi inserito due immagini di due video di riferimento per provare a vedere questi controlli quindi ci spostiamo sulla color come vedete qua ci ritroviamo le nostre clip e qui la nostra timeline dove ci possiamo spostare e selezionare la clip poi abbiamo le nostre ruote ruote colore e master will per invece la correzione della segnale video andiamo a vedere come agiscono con questi esempi pratici allora io metterei prima forse la rampa che spiega meglio e vediamo il segnale io sono un elettrotecnico e per cui sapevo già utilizzare lo scopio quindi gli scope quando selezioniamo la nostra clip appare un nodo qui che rappresenta appunto la nostra clip e viene visualizzata qui se abbiamo un desktop resettato questa è l'interfaccia di da vinci qui cliccando qui possiamo attivare gli scope è praticamente uno strumento di misura qua in alto andiamo a inserire adesso waveform per cercare di capire il nostro segnale rimettiamo questo qua sfumatura praticamente in questo waveform cioè forma d'onda abbiamo un grafico costituito dalle ascisse un asse orizzontale che rappresenta il nostro quadro e il nostro nostro frame e le ordinate un asse verticale dove c'è questo valore questo valore rappresenta un valore di luminosità e questo valore espresso in it che è un riferimento per la luminanza o brillantezza è preso dal numero di candele per metro quadro cioè quanta luce c'è in una determinata superficie e noi basta con sapere che questo valore ovviamente parte da zero e quindi da dal nero diciamo fino a un valore massimo di luminosità e quindi diciamo il bianco massimo che c'è nella nostra immagine quindi da zero in questo caso a 1023 invece spostandoci appunto in orizzontale avremo il primo punto che si trova all'estrema sinistra della nostra immagine spostandoci ci sposteremo verso il centro della nostra immagine in quest'area qui e per finire sulla parte destra della nostra immagine come vedete qua abbiamo rappresentato questa rampa che va dal nero poi passa velocemente a dei grigi molto chiari e qua è quasi sembra quasi più uniforme e al bianco e questa viene rappresentata vedete con questa linea diagonale che va appunto da un valore zero il nero a un valore 1023 che è il bianco tutto quello che sta in mezzo saranno questi punti che rappresentano ognuno un grado di luminosità diverso ad esempio qui in centro sarà quest'area qui di questo grigio perché sto facendo tutto questo discorso perché questi controlli qua ovviamente sono inerenti alla taratura di questi valori cioè con queste ruote possiamo andare ad agire su questi valori adesso vi faccio vedere questa clip con queste barre in bianco e nero e come potete vedere abbiamo sempre un passaggio da 0 il nero a 1 diciamo io dico 1 per dire il valore assoluto il bianco e come vedete vediamo degli scalini perché gli scalini perché gli scalini sono la luminosità intermedia vedete qua abbiamo questo scalino che sarà il secondo scalino di questo grigio il terzo il quarto scalino e così via ognuno rappresenta una luminosità diversa allora ritorniamo sulla griglia e andiamo a vedere come agiscono queste ruote così si capirà bene la differenza tra lift gain e la gamma come chiedeva il nostro amico se andiamo a toccare lift toccheremo le parti scure della nostra immagine i neri attenzione che questi controlli non sono precisi al punto ma hanno un'area di operatività quindi ad esempio il lift che controlla i neri controllerà una parte dell'immagine sui neri comunque andiamo alzare questo controllo e cosa facciamo adesso andiamo ad aggiungere luminosità quindi spostando verso destra vedete che il punto che è del nero va alzarsi e sull'immagine possiamo notare che il mio nero va a sparire perché lo sto schiarendo così di conseguenza tutta la mia diagonale come vi ho detto appunto agendo sul nero sto agendo anche sulle altre parti per assurdo se io tiro il nero al valore del bianco avrò che la mia curva si andrà a raddrizzare vedete e tutta la mia immagine diventerà bianca un certo punto infatti così come vedete ecco cosa è successo abbiamo alzato tantissimo questo nero e abbiamo appiattito tutta l'immagine adesso andiamo a spostare giù vedete quindi questo livello del nero andrà agire in quel particolare punto e determinerà quanto nera sarà la mia parte scura dell'immagine il gain è il contrario il gain agisce sulla parte bianca dell'immagine sui bianchi e quindi andrà a regolare quanta luminosità hanno questi bianchi proviamo in questo caso ad abbassare questo segnale e quindi vedete che il segnale scende io al bianco ho dato meno luminosità eccolo qua e vedete che ovviamente regolando questo bianco tutta tutta la curva sia da si deve adattare per forza e vedete che anche in questo caso possiamo spostare il bianco fino a diventare nero e quindi vedete che tutte le aree si vanno ad abbassare fino a nero ok cosa è la gamma la gamma è la parte dei dati della luminosità delle aree centrali se andiamo a muovere agire sulla gamma infatti vediamo un rigonfiamento in giù o in su dei nostri segnali andiamo a vedere io adesso la vado abbassare e vedete che cercano di essere preservate le aree dei neri che restano a zero e le aree dei bianchi che restano al mio 1023 valore massimo in questo caso mentre tutte le aree che fanno parte che partono dai bianchi ai neri vengono abbassate con conseguenza vedete che avremo una rampa diversa un passaggio diverso dai neri bianchi vedete che qua i grigi qui diventano più neri e ovviamente anche qua tendono a abbassarsi adesso io insisto ad abbassare vedete cosa succede otteniamo questa curva adesso noi stiamo agendo su un'immagine di riferimento poi lo vedremo con le nostre immagini vedete come abbiamo questa rampa infatti si vede il nero perché questi grigi abbassandosi sono andati a finire nero poi abbiamo così un una rampa in salita verso i bianchi e che anche questi comunque sono scesi stessa cosa ovviamente se facciamo il contrario cioè se andiamo ad alzare la gamma abbiamo che i punti dei bianchi dei neri non cambiano ma cambia tutta l'area centrale delle nostre immagini vedete come qui a un certo punto si va a tirare dentro anche i neri ovviamente e quindi andrà alzare anche i neri ma il discorso è che abbiamo gonfiato quindi abbiamo dato più luminosità ai a tutta l'area dei dei grigi riducendo tantissimo il nero adesso gli spiego anche che cos'è l'offset l'offset dati dei valori adesso andiamo a dare un bianco un pochino più scuro lo vado ad abbassare vedete e un nero invece un pochino più grigio lo vado a alzare ecco quindi abbiamo due valori un valore dei neri un valore dei bianchi l'offset non farà altro che spostare il mio segnale mantenendo questo contrasto fra i punti nero e bianco questa è la differenza di segnale si dice contrasto e andremo a spostare tutto il pacchetto di segnali o più in basso o più in alto vediamo infatti spostando l'offset verso il basso vedete che i punti la differenza tra i punti non cambia ma abbasso tutto il pacchetto verso il nero e quindi avrò un nero più nero e lo stesso in conseguenza il bianco scenderà giù il livello ma così hanno fatto in proporzione tutti vedete che non c'è un cambio di che un grigio diventa più chiaro più scuro cioè c'è un uniformità nel segnale adesso proviamo a spostare più su e vedete che tutto il pacchetto sale uguale quindi ovviamente l'immagine cambia ma cambia in proporzione non è come la gamma che va agire solo in una determinata area ecco vedete perfetto quindi abbiamo capito bene cosa è la gamma a differenza del lift e gain quindi lift agisce sulla parte nera dell'immagine gain sulla parte dei bianchi dell'immagine la gamma sulla parte dei dati centrali e l'offset invece mi sposta tutto come vedete andiamo a vedere questa cosa anche sulla nostra rampa così possiamo vedere la stessa cosa proviamo a muovere un nero e vedete che alzando il nero vado alzare il nero e di conseguenza come abbiamo detto prima tutte le le aree andiamo a toccare il bianco lo proviamo abbassare alzare e vedete come la parte bianca dell'immagine va a agire proviamo a regolare la gamma e vedete come tende a avere un effetto di di curvatura andiamo a spostare invece semplicemente l'offset e vedete che spostiamo l'intero pacchetto attenzione finora abbiamo fatto tutte queste cose con un segnale in bianco nero e l'ho fatto appositamente perché perché segnali in bianco e nero ha solo un segnale di luminosità quindi di y la luminosità si indica con y non avevamo presenza di colori quindi vediamo il caso di un colore di barre colorate allora il colore sul waveform è molto più difficile da vedere perché il colore è l'aggiunta di una frequenza se la luminosità è un'ampiezza abbiamo visto in questa scala a questa scala viene aggiunta una frequenza ogni frequenza ha un colore per andare a vedere i colori c'è un altro strumento questo si chiama vettroscopio se clicchiamo sul vettroscopio ci verrà fuori questa ruota ma che cosa rappresenta come vedete questa ruota è una ruota dove sono posizionate le frequenze dei nostri colori e abbiamo questi quadrati che sono dei riferimenti al nostro colore ovviamente con la dicitura inglese quindi abbiamo r per red m magenta e b per blu c per ciano g per green e y per yellow come vedete adesso abbiamo dei puntini con dei vettori anche colorati quando il nostro segnale è corretto il puntino inerente a quel colore deve cadere all'interno del nostro quadratino adesso vi faccio vedere aumentando la saturazione vuol dire che questa immagine non è saturata correttamente ora lo riposiziono e ve lo spiego vado aumentare la saturazione e vedete che i puntini cadono corretti all'interno del quadratino guardiamo qua nelle barre colore sono fatte apposta un segnale di test abbiamo tutti i colori necessari primari e le loro somme per andare a cadere dentro questi quadratini quindi abbiamo il rosso e ecco qua il rosso poi abbiamo il blu e cade dentro il blu poi abbiamo il verde e cade dentro il verde e poi abbiamo le loro somme ad esempio m magenta è dato da rosso più blu eccolo qua il magenta e cade nel suo quadratino poi avremo il giallo il giallo è dato da rosso più verde anche se sembra un po strano stiamo parlando di sintesi additiva che è data da dalla somma di luci il giallo eccolo qua cade nel suo quadratino poi abbiamo il ciano il ciano è un colore che è dato dalla somma di verde e blu cade dentro il suo quadratino e poi ovviamente il verde come abbiamo detto allora cosa rappresenta questo grafico e rappresenta il punto centrale vuol dire che non c'è colore che non c'è saturazione la saturazione è la quantità di colore io più do colore e più vado aggiungere questa frequenza questo segnale e quindi andrò alzare l'ampiezza del mio segnale verso l'esterno del grafico vediamo io vado a togliere la saturazione e vedete che i puntini vanno verso il centro quindi andare verso il centro significa meno colore vedete che l'immagine qua in alto diventa in bianco e nero ecco qua sono a zero infatti non c'è presenza di nessun colore ora vado ad alzare la saturazione e vedete che i puntini vanno verso l'esterno e quindi vanno a posizionarsi quando la loro saturazione è ottimale in questo punto ma se io esagero e vado a aumentare vedete che il segnale va fuori diventa molto saturo qua sono arrivato al 100 per cento e siamo fuori da dei quadratini quindi vuol dire che questo segnale non è corretto non solo potrei fare una brutta cosa cioè sfasare questi colori spostarli se io agisco sul colore su you vado si dice a regolare la fase del colore cosa vuol dire che questa frequenza cambierà ma cambiando frequenza cambia anche colore quindi io spostando you vado a cambiare effettivamente i colori vedete che il giallo diventa verde guardate cosa succede i puntini fanno una rotazione perché perché vanno a posizionarsi su un altro colore e quindi vedete ad esempio il giallo che si trova qua ruotando il colore io lo mando verso il rosso e guardate il giallo cosa succede va proprio a diventare rosato perché lo sposto verso il rosso se insisto andrà verso il magenta vedete e infatti diventa magenta vedete il puntino qua io lo ruoto pensate la magia dell'elettronica cioè gli sposto la fase una volta bisognava fare questa cosa anche sulle telecamere quando si aveva anche più telecamere si faceva anche la fase della telecamera sul suo segnale perché fosse corretto ma tutte queste belle cose che possono anche confonderci a cosa servono sull'immagine allora abbiamo queste immagini di riferimento ovviamente sull'immagine la cosa cambia perché la lettura incomincia a essere complessa andiamo a vederlo quando selezioniamo l'immagine ci troviamo un bel pasticcio adesso ritorniamo su waveform vediamo tutto un insieme di onde che si sormontano perché stiamo leggendo sia la luminosità della nostra immagine in questo caso che i colori andiamo a disattivare il colore per il momento vedete con questo controllo io leggerò solo la luminosità per il momento e vedete che vediamo che in questo punto i miei dati sono molto alti e nella parte sinistra dell'immagine vediamo che c'è questa questo segnale luminoso cosa sarà è la mia finestra vedete è quest'area della finestra è la parte più luminosa dell'immagine che corrisponderà a questo punti luminosi le aree più scure ad esempio questa riga qua potrebbe essere questa riga qua che troviamo qui in basso e così queste aree qua giù sono la parte più scura dell'immagine mentre queste aree più su vengono rappresentate con le aree più luminose ma cosa dobbiamo far noi ad esempio per correggere questa immagine che vedete è scialba diciamolo così non è corretta dobbiamo andare a riposizionare le nostre aree i nostri punti in determinate zone ben precise quindi ad esempio vediamo che l'immagine non ha dei forti neri i neri sono verso i grigi quindi noi agendo adesso lo dico un po alla Carlona perché non c'entra con il discorso che aveva chiesto l'amico posso andare a abbassare vedete la parte dei neri e riposizionarla più verso lo zero che è l'area che abbiamo detto che è nera attenzione non insistere troppo perché tutti questi puntini che vanno verso il nero e sono già neri se scendono sotto nero verranno persi cosa voglio dire che se io faccio una cosa così tutte le aree che andranno sotto nero saranno perse quindi non si arriva mai a nero con il mio segnale si sta diciamo così i segnali del nero stanno nell'area dei 128 nits e vedete che allora questi puntini arrivano quasi allo zero ma non entrano dentro completamente quindi non vengono clippati tagliati ora riposizioniamo queste parti luminose vedete che non è grigio non è chiaro quest'area invece dell'immagine purtroppo sarà bruciata perché è un controluce quindi andiamo a posizionare queste aree verso l'alto le prendiamo le alziamo vedete alziamo 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 e le dobbiamo tenere attorno a 896 anche qui c'è lo stesso discorso attenzione alle parti bianche perché se voi alzate troppo escono dalla scala e vedete che c'è una riga dritta vengono tagliate quindi vuol dire che le aree che usciranno fuori saranno completamente bruciate e tagliate via le perderete per sempre quindi arriverete così poi abbiamo tutta l'area dei segnali in mezzo la gamma che è molto bassa in questo tipo di immagine e quindi agendo sulla gamma potremo andare vedete a controllare queste aree centrali quando facciamo così e vediamo che salgono possiamo riposizionare anche i neri ecco adesso attenzione questo discorso molto più complesso però avete visto con la gamma cosa serve la gamma serve a riposizionare i livelli intermedi una volta che abbiamo stabilito il nero e il bianco qua c'è anche un discorso di colori però non entriamo nel merito cos'è mid detail mid detail è proprio un dettaglio della nostra immagine e si vede subito agendo su questo controllo proviamo a spostarlo verso sinistra e vediamo che il nostro segnale diventa soft per cui questo segnale non va più si va beva agire qui ma non è visibile diciamo a livello del se vedete vediamo la differenza proprio anche qui nel dettaglio dell'immagine ma non non è misurabile invece occhio lo vediamo molto di più se io spingo di qua vedete che la mia immagine è diventata soft quindi questo controllo ci può servire a valorizzare o no certi dettagli ad esempio su una pelle di un rinoceronte se io voglio vedere bene il dettaglio della pelle posso andare a spingere questo controllo verso destra vedete che andando di qua l'immagine diventa molto dura e dettagliata ve lo faccio vedere proprio con la pelle del rinoceronte ecco qua ho preso un rinoceronte adesso entro un po' dentro l'immagine vedete questi dettagli sulla pelle allora qua possiamo andare abbassare i neri vedete come guadagniamo subito contrasto dell'immagine andiamo a alzare i bianchi ci regoliamo la nostra media guardate l'offset cosa fa vedete come sposta tutta l'immagine o su o giù e una volta che abbiamo bilanciato questi valori adesso io non lo faccio con il mid e dettagli guardate così andiamo a perdere dettagli vedete che diventa tutto più soft può essere può essere anche fatta apposta per alcuni video ad esempio con le spose con alcune cose per andare a morbidire l'immagine dall'altra andiamo a recuperare i dettagli guardate come ora vediamo tutti i dettagli della pelle anche troppo esagerato vedete quindi se lo fate su una persona anziana magari togliete le rughe no invece qua possiamo andare a aggiungere dettagli e quindi avere una immagine più ricca di dettagli che altrimenti avremo perso in pratica se andiamo a vedere come agisce mid detail utilizzando la nostra immagine sempre in bianco e nero adesso vado a contestarla ecco un po di più andiamo a giro su mid detail guardate l'area dello scalino da una parte la cioè sfumando l'immagine va a arrotondare queste aree di passaggio tra una gradazione e l'altra vedete come viene arrotondata la forma d'onda dall'altra viene accentuato vedete che c'è questo picco il passaggio proprio da una parte dell'altra se clicchiamo qui in highlight mode possiamo vedere proprio questo effetto vedete qua va a aumentare vedete che qua c'è questo picco sul cambio tra una banda e l'altra e dall'altra parte ammorbidendo c'è il contrario vedete va a fare il contrario quindi alzare e lo scalino dopo eccolo qua ecco l'ultima cosa che avevo detto che vi faccio vedere questa qui che ho realizzato in fusion due quadratini era per ribadire un po il concetto dei livelli vedete questo quadratino completamente bianco è rappresentato da questa riga completamente bianca mentre questo quadratino con una sfumatura da nero al grigio è rappresentato da questa riga che parte da nero e va al bianco scusate dal nero al bianco se andiamo a agire sui livelli vedremo che si va abbassare andiamo in fusion per farvelo vedere prendo questo background e lo vado a fare un grigio ad esempio se torniamo sulla color vediamo vedete che si è abbassato il livello così anche questo se io vado ad esempio a abbassare il livello del bianco qua e lo vado portare verso il grigio e adesso vado a prendere il nero e lo porta un pochino più su cosa avrò fatto avrò ridotto vedete ho alzato il nero e abbassato i bianchi ecco e vedete comunque c'è la scala come è rappresentata qua la scala del passaggio tra nero e bianco invece qui è un grigio uniforme e quindi qua abbiamo una riga uniforme ovviamente aggiungendo una dominante un colore vedete che stiamo aggiungendo in realtà una frequenza andiamo a vedere il vetroscopio guardate qua è in bianco e nero ora vado ad aggiungere un blu vedete come la linea si è spostata verso il blu e abbiamo questi puntini che sono il background e gli altri due punti rappresentati qua vedete che si è spostato se lo faccio solo sul game si sposterà solo la linea vedete dei punti bianchi quindi cambierà non cambia il fondo cambia solo questo livello di luminosità di bianchi e ruotando attorno alla ruota vedete come sposto e posso leggere già da qua senza guardare la mia immagine so già di che colore saranno i quadratini vedete qua saranno rossi qua andranno verso i gialli verso i verdi vedete che cambia anche il colore del vettore e quindi questo strumento mi aiuta a capire il colore che ho e la saturazione la saturazione qui è data lo stesso di avvicinarsi al centro della mia ruota vedete o allontanarsi e corrisponde anche alla saturazione oppure appunto poi posso agire anche sul controllo della saturazione qua ecco bene spero di aver risposto con questo viaggio nella color fatto un po così in modo leggero non sicuramente dal punto di vista tecnico magari preciso nel discorso però spero di aver chiarito all'amico la differenza tra lift gain mid e detail e la gamma e abbiamo visto anche l'aspetto del colore poi in altri video magari entreremo nel dettaglio io vi ringrazio per aver seguito e ci vediamo al prossimo tutorial ciao 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 ciao